Eccoci qui, gol del Napoli, calcio di rigore di Cavani, Cavani, ha segnato l'edizione Cavani come careca, 19 gol in Serie A con la maglia del Napoli di Estesani. Visto che è uno dei filmati più cliccati su YouTube, anche perché ci sono tantissimi telespettatori napoletani che aspettavano a questo momento. Pronto Marcello? Ho in vita, ho in Italia, ho in colore, il suo gole, si stanno, ho prima amore, ho prima e l'ultimo, sarà per me. Benissimo, è duplicato, è duplicato. Guarda che c'è il pallidito, vuole lo soffero. Cosa vuole rispondere? Guarda, non c'è un pallidi. Cosa vuole rispondere da Catanese? Aspetta, che è duplicato. Che ho detto, non si vince in due. Se si fosse, prova in televisiva, il rischio è... Mozione di... Come fate? In alcune Italia adesso non ha fatto fatto. Dottor Roberto, facciamo una mozione di due. Ma parlo... Certo, facciamo. Ma vediamo se la Juventus... No, 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 no. Aspetta, aspetta, aspetta. Non c'è ragione. Siete visionari! Prima gli rispondiamo nel mio. No, dopo. Siete visionari. Dobbiamo parlare di Juventus Inter. Siete visionari. Nel caso, io non lo vinco di sicuro, perché sono fuori dei giochi, no? Lui dice, se no dovessi vincere io. C'è un avversario in più. Preferisco vincesse. Però, però ti volevamo rispondere seriamente nel merito. Siete visionari. Siete visionari. Siete visionari. Siete visionari. Siete visionari. Siete visionari. Non lo so. Ormai sono fatte così. Oggi, oggi è così. Oggi è il momento così. È il momento della stupidea. Un attimo. Parliamo di cose serie. È bravo. Bravo. Il numero uno si è ancora ripreso. Ma c'è il funerale. Ma guarda quello si è ancora ripreso. Ma guarda, c'è il funerale. Ma scusate, oggi. Guarda, sono di una cama stranamente olimpica. Perché qui sono totalmente lontane dai miei pensieri. Ho fatto una sceneggiata di felicità per questo... Cavani! Gol e Napoli Cavani. Cavani! Chiusa la partita. Tra l'altro il cross ha fatto Paolo Cannavaro. Paolo Cannavaro. Paolo Cannavaro. Ti sa l'altro. Direi però che è là. Gianluca, scendi. Gianluca, scendi subito. Quindi a Napoli, piuttosto che a Palermo, a Venezia... Catania, no? Se lui è stato nella sua vita soltanto due volte... Guarda l'Ottigaro. È stato due volte. Ah, 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 ah. Gliombe, 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 Gliombe! Gliombe, 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 Gliombe. Ah, perché Rossi ha fatto questa incursione per... Vabbè, un saluto. Non saluto. Ma sei intanto solo per saluto.